Un pubblico che in realtà io non ho mai cercato volutamente, è arrivato in modo inspiagliabile, che tuttora non capisco come sia possibile. Io sono molto contento di avere questo regno, poi in realtà in giro si dice che ai Rovazzi piace ai bambini, ma quando cammino per strada mi fermano anche 80 anni perché mi hanno visto da pazzo, quindi il mio pubblico non è delineato al 100%, chiaramente il motore di tutto e la parte più attiva sono i bambini, ma soprattutto i genitori più che i bambini. La domanda poi, avevo qualche altro… scusami, puoi ripetermi la domanda? Era solo questo. Questo e appunto se ne è di consapevole… Io sono consapevole, sì, sono anche molto contento perché nei bambini c'è tanta sincerità, come se piace ai bambini, insomma ti fa piacere, io sono sempre più contento di piacere ai bambini.